Intanto è un bilancio che non prevede l'aumento della pressione fiscale, nonostante la situazione le esigenze siano molte. C'è bisogno di risorse per quanto riguarda la sanità, che chiude i conti comunque in sostanziale pareggio, ma dobbiamo pensare che tutto quello che consentirà di realizzare PNRR, quindi le case della comunità, gli ospedali della comunità, investimenti in telemedicina, poi avranno comunque bisogno anche di professionisti che possano lavorare per fare funzionare questa sanità territoriale che noi abbiamo dato indicazione anche a conclusione degli Stati Generali e della salute di dover rafforzare. Poi c'è il tema di professionisti, alcune specializzazioni mediche dove ad oggi non è possibile reperire professionisti e c'è l'aumento del costo dell'energia che grava sui conti della sanità regionale per circa 130-140 milioni. Di fronte a queste esigenze purtroppo dobbiamo fare i conti con una legge di stabilità del governo che per come è stata presentata invece riduce le risorse per la sanità pubblica e la Toscana è una delle regioni che ha forse la sanità pubblica più pubblica che esiste nel nostro paese, ha servizi più diffusi. Quindi questo è un grave problema e io spero che in Parlamento riusciranno a correggere questa manovra del governo perché c'è bisogno di far fronte alle maggiori spese che sono appunto quelle di un contrasto alla pandemia che è rallentata ma ancora non è definitivamente sconfitta. Aumenti del costo dell'energia maggiori professionalità che hanno bisogno di entrare a gestire i servizi che in Toscana stiamo pensando di dover mettere a disposizione dei nostri cittadini.